Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel caesustrice, bentornati su Counter Strike Global Offensive. Oggi vedremo assieme una sfida Only Pistol in una mappa della comunità sul sito pvpro, ma come sempre prima di scatenare l'inferno in questa divertente modalità ci tengo a salutare chi tra voi si è distinto per la sua generosità. Il primo tra tutti è Mattix5943 che mi ha regalato una bellissima USPS torsione e per questo lo ringrazio profondamente. Il secondo è Madboy che come ben sapete appartiene al mio team. Già in passato mi aveva sorpreso con una donazione incredibile ma questa volta ha superato chiunque altro donandomi il Karambit Acciaio Blu che è stato e sarà sempre il mio primo Karambit in assoluto. Per ultimo Polpetta2203 che mi ha completamente sommerso di casse. Non ci rimane che montare il silenziatore e le nostre pistole però nell'anima e gettarci nella mischia per affrontare impavidi nemici. Buona visione. Ok va bene partiamo vediamo un po'. Let's go. La mappa è sulice. Sono due a destra. Uno fatto. Bravo. Sono tutti e due a destra. Dovrebbero essere. Uh una a sinistra adesso. Fatto. Attenzione eh. Lo vedo. Fatto. Bravo. Bella. Fatto. 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 Mi fai giocare. Lasciatelo giocare. Ok perfetto l'ho subita. Una a destra. In fondo. Fatto. Bravo dieci. Oddio. Eh. Vabbè pieno di uspa anche per terra. Eh vabbè vabbè. Uno a uno. Come on guys. Allora uno si allarga sempre a destra. Possiamo cercare di dividerci anche noi un pochino eh. Due. Uno a sinistra sicuro. Lo vedo. Ok rush uno centrale. Centrale. Arriva da te dieci. Lo vedo. Aiutate aiutate aiutate. Ok centrale un altro. Un altro hitato. Due hitati. Uno davanti a te. Bravo Ale. Quello in fondo mi ha fatto sempre lui. Zamblian. Bravo Ale. Bravo. L'ultimo colpo della pistola. Bravissimo. L'avevo hitato il maledetto. Let's go. Let's go my friend. Uno è proprio in fondo. Dovrebbe essere l'ultimo. Oh mamma mia. Oh muorici. Fuck. No lo miravo. Vai così. 3-1. Dimmi cash. Questo è il più pericoloso. Ah fuck. Si pushano. Guarda questo. È sempre lui il maledetto. Dovete uccidere Zamblian. Bravissimo. Ale è feroce. Bravo Ale. Easy clutcher. Man. Bella lì. Provo una pusciata imperiale. Io voglio uccidere Zamblian. Sono due a destra. Lo vedo. Oh finalmente. La mia vendetta. Eeeh. Vendetta vera. Non finirà in galera. Frito Ruccio Baldazzi guys. Bella lì. 5-1 per le udere. Allora ne ho due di là. A destra. Adesso due a sinistra. E Zamblian. Mamma mia questo lo odio. Bigale io ci credo. Mamma mia. Io dico Clutcher Man. Clutcher Man. C'è uno. No. Tutti e due lì. Oh fuck me. Eh devi fare il fenomeno. Easy clutcher. Uno. Eh uno. Fuck. Nice. Quello dietro era in trasferta. In traiettoria. Trasferta non c'entra niente. L'ho messa lì così. Sono due a sinistra. Centrale uno. Bello. Ah fuck. Ha pusciato sì. Va bene. Quello a sinistra ha pusciato come un demonio. Push. 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 Davolo. Ah. Eh dio. Dio. Ma fuck. Per un secondo. Veramente. Per un millesimo di secondo l'ho mai salvato. Senti che è rimasto il più rognoso. Sì. Infatti è lui che voglio. Ale è quasi morso. Aspetta Ale. E là in fondo l'hai visto. Non ci devo già attaccarlo. Oh. Nice. Mamma mia. Stray. Bella. Timelapse for now. Nice. Ma guarda questo maledetto. Bella. Due due. Una destra raga. Gioco di precisione. No. Il sangue. Il sangue. Il sangue non lo vedevo. Uh. Ok. Bravissimo. Tuo. Tuo. Ma guarda. Guarda che maledetto. No. Eccolo. Ma sai perché? Perché ti faceva poi il giochetto c'è dietro la colonna maledetto. Dietro la specie di separe. Ha fatto il camperino indietro. Un andato. Me la ripiego. Bella dieci. Io lo pusho questo. Anch'io. Pushamolo. Io lo vendi di carta. Brava. Alice è fermato. Gli ha messo la pistola in bocca e ha premuto il grilletto. Bella lì guys. Sono due a destra. Confermo. Ma visto. Veloce il finale. Ah. Sono crossfireato. Il patte raga. Un andato. Fatto. Bellissimo. Bellissimo. Bella raga. Bella. Very nice. Let's get it done guys. No. Uno fatto. Non ci posso creare pushato tale balla. Dov'è? Che cosa puoi fare? No. No. C'è una buona posizione. C'è la puoi fare. Uh. No. Che sfiga no. Peccato. Ho proprio sentito il bad timing. Eh no però mi rilasciava. Cavolo se passavo dietro l'altro muro ce la potevo fare. Eh via. Questo non l'ho neanche visto. Uno in fondo a sinistra. Bella. Bravissimo. Mamma mia Ale. Bravo 10. Bella lì. 10-5 dai. Speculare. Uno rush. Uno rush a centrale. Uno rush a centrale. Morto centrale. Perfetto. Morto. Morto. Sai dov'è? È in fondo. Oh. C'ho poca vita. Ma guarda te. Ah fuck. Eh sbagliati che dai. Questo qua. No no. Qui ho scappellato anch'io. Ok è morto. Buono. morto. Bravo 10. Bravo 10. Easy. Easy clutcherman. Let's go. Eccolo lì. Fare un clutch della vita. Yes. Ok. Oh fuck me. No il craccerino lì no. Eh lì no il craccerino. Poi chi è che si craccia con le pistole fuck. Guarda te. Due a sinistra. Sono messo male. Lo prendiamo stream? No. Non lo prendiamo. Due spawn. Due spawn. Da noi. Alla 10. Eccolo lì. Vabbè vabbè. Hai detto. È da un po' che manco il viso del tizio. 11.8 eh ragazzi. Sì. Bisogna stare concentrati. Bravo. Uno centrale circa. Uno è tutto a sinistra. Siamo io e te. Attento tutto a sinistra. Centrale spavolo. Centrale bussia. Centrale bussia. Oh fuck. No era spostissimo. L'ho giocata male io qua. 67 giocata. Giocata male io. Messo tutto a destra. Concentrati raga. 9.11. Mamma mia. Sono bastarda. Oh fuck. Sono svegliati adesso? Dai. Come on. Concentrati. Non ci siamo tormentati noi. Anche uno delle due. Fa più la seconda. Allora due a destra. Dovete aiutare. Eh ciao. Ok. Sì si crouchano. Ma poi attaccano proprio diretti questi. Dobbiamo prenderci una posizione interessante. Cerco di andare centrale. Uno fatto. Due fatto. Dovrebbe essere centrale. Dovrebbe. Give me the ace guys. Nice. Cioè praticamente dobbiamo cercare di andare belli aggressivi davanti. Anche secondo me. C'è una parte centrale bisogna tenerla. Due a sinistra. Ok. Qui è brutta. Uno fatto. Bravo. Ti spawn l'ultimo. Ti spawn sì confermo. Bravissimi ragazzi. Dai dai dai. Vada lì. Questo è un maledetto. Uno ha pushato. Due ha pushato. Ci diamo questo se riusciamo. Eh 10. Ero un po' nella merda. Perché. Eh lo so. Eh ci ha pushato in due subito. Questi appena aprono uno. Van subito davanti. Move move. Rushano pushano. Dai fallo. Fallo ancora fallo. Ma non ci credo. Aspetta perché. No l'ho visto in diretta. L'ho visto in diretta Epic. Aspetta. Aiuto veloce. Sì. Dov'è? Vai faccio faccio faccio. È lì. Sì. Oh fuck è quello forte. Ok. No scusa 10 ma è bello perché io ho fatto la doppia. Poi vedo proprio uno che parte aggressivo. Come dire. Easy. Botta in testa e via. Botta in faccia Epic. L'all bannet. Ale. Ringrazio. Nice guys. 15 12. Come on chiudiamola dai. Chiudiamola e prendiamoci un po' di coin. Bene detto. Uno. Ma è una gioia di line. Dieci. Ok l'ultimo è più o meno il nostro sp... No non ci credo. Deci. Ho cercato una mossa... Di coltello. Andai tra il giochetto. Per non vedi. 58 in due. 58 in due. Dai. Chiudiamola. Ecco. Detto fatto. Yes. In pre-fire no però. No aspetta. Io mi affido... No no no. Fuck. 18 e 15. Eh abbiamo un match point. È match point. Qui se sbagliamo... C'è ancora in mente. Due centrali hanno pushato. Dio di dio. Spara completamente a caso e ci ha fatto due headshot. Sì. Questo qui spara a caso. C'è... Ma... Ma andiamo all'overtime. Overtime raga. 3 headshot che non sa neanche lui come va a fare. Dobbiamo cercare di prendere la posizione centrale comunque. Uno centrale morto. Oh fuck. Ma crossfire up. Ma crossfire up. L'ultimo è da me. Aiutalo Ale. Ok lo sto aiutando. Capito di spy. No. Che timing. I golpi. I golpi. Aspetta. Bravo. Bravo 10. Bravo. Nice. Ok. Secondo solo. Ah attento. Ok. No non ce la faccio prenderlo. Posso credere. Sto cuscione qui. Ce la facciamo? Bravo. Can do this. Tu l'hai visto? Bravissimo. Oh mio dio. Oh mio dio. Headshot machine io dico. Headshot fucking machine. Nice. Dai raga. Ecco adesso le prendo subito. Sempre così. Madonna uno avrà dieci di vita. Sì o no. No ragazzi. Pusciate. Bravissimo. Ok bello. Bravi bravi. Dai ragazzi. Let's move fucking out. Cerchiamo di prendere una position interessante. Uno centrale. Uno fatto. Uno fatto. E l'abbiamo chiusa. Bella lì raga. Bella. Un buon allenamento. Ciao. In questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su DS per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace. Lascia un commento. E se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima.